Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti nel mio canale. In questo video vedrò di soddisfare la richiesta avanzata da un mio utente in un mio precedente video. Si tratta di Bunsen Labs. Non credo che vedrete spesso recensioni di distro sul mio canale. Anche questo video non lo è, in realtà è un video di prime impressioni. Comunque ho pensato di soddisfare questa richiesta perché Bunsen Labs è stata rilasciata il 19 dicembre, quindi recentissima, e perché è basata su Openbox. Quindi parliamo di un sistema operativo, di una distro molto leggera. Openbox è anche il Windows Manager che ho usato in passato, quindi ho pensato che potrebbe essere interessante portarla sul canale. Come già mi ha detto il mio scritto, Bunsen Labs, questa versione è basata su Debian 11, quindi sull'ultima versione stable di Debian. Non ho idea se ogni versione di Bunsen Labs sia sempre basata sulle versioni stable di Debian. Comunque questa è basata su Debian 11. Andiamo su Installation e scarichiamo la versione per 64 bit oppure quella per 32 bit. Io ovviamente già l'ho scaricata, ho scaricato la versione per 64 bit. Poi vedo che in basso abbiamo i requisiti minimi. Come minimo c'è bisogno di 1 giga di RAM, ma sono raccomandati almeno 2 giga. E lo spazio di cui necessitiamo sul disco sono 20 giga per installarla. Direi di partire subito. Come detto io improvviserò, non mi sono preparato assolutamente nulla, ma è così che bisogna fare in un video di prime impressioni. Partiamo. Qua vedo le diverse opzioni per farla partire in live. Noi facciamo partire l'installer. Metto in pausa e ci rivedremo quando l'installer ha finito di caricarsi. Ed eccoci alla scelta della lingua. Cerco la lingua italiana. Eccola qua. Clicco su Avanti. Ok, la traduzione del programma di installazione per la lingua selezionata è incompleta. Comunque sì, continuiamo in questo modo. Territorio Italia va bene. Tastiera italiana per voi va bene, per me no. Caricamento dei componenti aggiuntivi. Mi chiedo quale sia esattamente questo programma di installazione. Credo che sia semplicemente lo stesso utilizzato a Debian. O comunque è molto simile. Sì, credo proprio che sia quello di Debian. L'interfaccia grafica del programma di installazione di Debian. Va bene, siamo al nome della macchina. Lo chiamerò Bunsen Labs. Bunsen Labs. Vado so avanti. Nome del dominio lasciamo a vuoto. Voi se avete bisogno di un nome nel dominio ovviamente lo mettete. Nome utente. Lo chiamerò Luigi. Avanti. Va bene. Password. Ripetere la password. Avanti. Ok. Vabbè, io per brevità vado con il partizionamento guidato. Cancello l'intero disco e installo Bunsen Labs come unico sistema operativo. Va bene. Tutti i file in una nuova partizione. Va bene. Di solito, quando installo una distribuzione Linux, preferisco partizionare diversamente. Preferisco avere una partizione home separata. Ma qua, metterò tutti i file in un'unica partizione. Va bene. Terminare e andare avanti. Si, confermo. Formattazione delle partizioni già fatte. E installazione del sistema base. Metto in pausa e ci rivediamo tra poco. Siamo all'installazione del bootloader Grab. Intanto mi è venuto in mente che ci sono un paio di differenze rispetto all'installer originale di Debian. Ad esempio, non ho visto la richiesta di creare una password, di scegliere una password per l'utente root. Mi ha chiesto qua direttamente di creare un utente normale. E quindi la password dell'utente. Mentre su Debian c'è la possibilità di impostare una password per root. Se si lasciano i campi della password per root vuoti, si ottiene un utente con i privilegi di sudo. Un utente che può accedere a sudo. Va bene. Installare il bootloader Grab sul disco primario, si. Inserire il device manualmente, no. Questo va bene. Siamo su devsda. Non so quanto tempo necessiteremo ancora. Quindi metto in pausa e ci rivediamo dopo. Ok, il sistema ha già finito di installarsi. È stata davvero un'installazione molto rapida. Quindi ci rivedremo a sistema avviato. Ed ecco che si è avviata la nuova installazione di Bunsen Labs. Ci troviamo davanti ad una schermata di benvenuto. Intanto sposto la webcam perché vedo che abbiamo qua un bel conchi con tutte le shortcut. Allora, leggiamo. È uno script opzionale post installazione per configurare. Va bene. Quindi, invio per continuare. Ok. Amministratore di sistema locale. Dobbiamo mettere la password. Ok. Devo scrivere I understand. Gli aggiornamenti con sudo apt-gate update, sudo apt-gate upgrade. Perché usano ancora apt-gate? Si può usare apt, no? Va bene. Quindi sta aggiornando il repository. Non c'è molto da aggiornare. Solo tre pacchetti. Facciamoglielo aggiornare. E nel frattempo vediamo un po'. Si tratta di Openbox. Quindi, se clicchiamo col tasto destro sul desktop, sulla scrivania, si apre il menu. E abbiamo run program, per dare dei comandi, il terminale, appunto, il web browser. Cominciamo a vedere che browser abbiamo. Me lo aspettavo. Mozilla Firefox. Nella versione 102.6.0 Stiamo parlando di Firefox ESR. Va bene. Ancora non ha finito di applicare gli aggiornamenti. Vediamo il file manager. Ebbè, questo è Tuner. Già lo vedo, lo conosco. Tuner nella sua versione 4.16.8 Va bene. Continuiamo con lo script. Installazione di firmware. ISENCRAM è un programma per cercare firmware mancanti. Sono su macchina virtuale, sicuramente non ce ne è bisogno. Non è detto che ne abbiate bisogno nemmeno su un computer vero e proprio. Comunque, io ovviamente vado su no. Saltiamo questo passaggio. Install bunsen image. Immagini di background. Wallpaper. Ok. Sì. Questo facciamo sì. Abilitare repository di backports. No. Meglio di no. Vediamo cosa dice qua. Ok. In grandisco, magari non riuscite a leggere. Adesso sicuramente sì. Va bene. Non li abilito. Ovviamente non abilito nemmeno questi. Si tratta sempre di backports. Bluetooth. No. Non mi interessa. Java support. No. Non mi interessa. Dropbox. No. Non mi interessa. Cos'altro? Installa pacchetti di compilazione probabilmente. No. Non mi interessa. No. Ok. Sembra che abbiamo finito. Quindi, ricapitolando, possiamo cliccare col tasto destro sul desktop. Si apre il menu. Abbiamo già visto il browser e il file manager. Come text editor abbiamo Genie. Ok. Scelta interessante. Sicuramente un buon editor di testo. Possibile anche scrivere piccoli programmini ed esegirli direttamente da Genie. Poi media player. Ok, questo è ovviamente VLC. VLAN media player. Poi cos'altro? Screenshot. Non ho mai visto questo programma di screenshot. No, mai visto. Vediamo se riesco a scoprire di cosa si tratta. Con xprop è possibile selezionare una finestra e vedere delle informazioni al riguardo. Ad esempio, qua vediamo che il nome della finestra è Confirm Screenshot Upload. Ok, però questo non ci dà molte informazioni. La classe è Yad. Cosa è Yad? Vediamo. Man Yad. Display GTK. Dialoghi di GTK. No, direi che non è questo. Non ci aiuta. Va bene, andiamo avanti. Di nuovo Screenshot. Questa volta però con XFCE4. XFCE4 Screenshooter. Scrot. Ah, questo... Sì, lo conosco. Scrot è un'utility da riga di comando, da terminale, per effettuare Screenshot. Se scriviamo semplicemente Scrot, abbiamo già effettuato uno Screenshot fullscreen dell'intero schermo. Se andiamo con Scrot-D5-C, avremo... Ops, Scrot. Avremo un delay di 5 secondi e ci verrà fatto il controlla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E abbiamo effettuato gli Screenshot. Infatti qua già vediamo due file PNG. Va bene. Cos'altro? Blob Teams Manager. Che non ho idea di cosa sia. Comunque vedo già applicazioni... No. Install Viewer. Ok. Viewer. Scusate il mio inglese. Comunque non c'è un'applicazione per il desktop remoto. La si può installare qua così comodamente. Ok. Cos'altro? Abbiamo qua un menu per accedere al directory documenti, download, musica, immagini, eccetera. Va bene. Molto comodo. File recenti. Preferenze. Sistema. Vediamo su sistema se c'è un software center. No, abbiamo però Synaptic. Synaptic... Chi si ricorda di Synaptic? Prima su Ubuntu, quando ho cominciato io su Ubuntu, non c'era ancora un centro software. C'era solamente Synaptic. Un gestore di pacchetti grafico. E sto cercando qualche opzione per gli aggiornamenti. che non la trovo. Informazioni sul sistema. Ah, ecco, è questo. Va bene. Kernel 5.10.0. Abbastanza recente. Su Linux Mint siamo sul 5.15. Su Arch Linux siamo già sul 6.1. Openbox è nella sua versione 3.6.1. Basata su Debian 11. Questo l'avevamo detto. Ok. Va bene. Niente, non sono riuscito a trovare qualcosa per aggiornare. SuperX Logout. Questo penso proprio che sia Ob Logout. Adesso lo vedremo. Ingrantisco. Ob Logout. No. Ob Logout. No. No, mi sbagliavo. Ob. No, sembra che non esista Ob Logout qua. Ok. Niente, direi di farvi vedere direttamente con il file manager. Se abbiamo dei file di configurazione di Openbox, andiamo su Config, poi su Openbox. e infatti abbiamo questi tre file. E infatti abbiamo questi tre file. Auto Start. Qua abbiamo tutti i programmi che vengono caricati automaticamente all'avvio di Openbox. e sembrerebbe che non abbiamo niente, ma qua possiamo aggiungere i nostri programmi. Ad esempio mettiamo che vogliamo aggiungere, non so, ditemi voi, Firefox, in modo da avviare Firefox automaticamente. Poi salviamo e usciamo, così la prossima volta che abbiamo Openbox si apre il web browser, Firefox. Cos'altro? Il menu e il file di configurazione. Qua abbiamo tutte le shortcut, i desktop, abbiamo quattro desktop, sto vedendo, quattro desktop virtuali. Esatto. Va bene, mi sa che il video già è abbastanza lungo e quindi passo alle mie considerazioni. Per chi è adatta a questa distro? Ma secondo me, per utenti già un pochettino smaliziati, che vogliono installare Openbox, che hanno il piacere di avere Openbox, oppure che vogliono un sistema leggero da installare magari su hardware datato. Probabilmente molti utenti a cui piace Openbox, a loro piace anche configurarselo da soli, ma se vogliono risparmiare la configurazione, qua si trovano, devo dire, un bel sistema. Molto, molto gradevole, devo dire. Va bene, dai, questo è tutto per oggi. Ciao, alla prossima!